Bentornati su IGB TechBlock, dal 23 marzo IGB TechBlock va in ferie, ma il canale non si ferma mai, verranno rilasciati sempre nuovi video, risponderò alle vostre email e ai vostri commenti su YouTube, quindi iscrivetevi al canale, rimanete sintonizzati e soprattutto attivate le notifiche, ma cosa più importante di tutte, non fate cazzate! Ciao a tutti! Ciao a tutti!